ciao a tutti oggi prepareremo la calamarata spigola e pomodorini il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa più il tempo di cottura della pasta gli ingredienti sono foglioline di basilico fresco scalogno olio extravergine di oliva filetti di spicola vino bianco pomodorini ciliegino pasta tipo calamarata prezzemolo pepe nero e sale diamo il via alla ricetta nel frattempo in una pentola capiente portiamo a ebollizione abbondante acqua salata dove cuoceremo la pasta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il prezzemolo e il basilico e li facciamo tritare per 5 secondi a velocità 5 mettiamo da parte il trito senza lavare il boccale mettiamo lo scalogno e lo facciamo tritare per 5 secondi a velocità 5 finiamo sul fondo del boccale versiamo l'olio e facciamo insaporire per 3 minuti 120 gradi velocità 3 veniamo sul fondo del boccale aggiungiamo i filetti di spicola che abbiamo tagliato a tocchetti e li facciamo cuocere per 3 minuti 100 gradi con l'anti orario a velocità soft dal foro del coperchio aggiungiamo il vino e lo facciamo sfumare per 2 minuti 100 gradi con l'anti orario sempre a velocità soft senza il misurino aggiungiamo i pomodorini che abbiamo tagliato a metà il sale e il pepe chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo cuocere per 10 minuti 100 gradi con l'anti orario sempre a velocità soft il sugo è pronto andiamo a condire la pasta e poi andremo a impiattare calamarata spigola e pomodorini grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti